Mezzanotte 59, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La candidatura di Joe Biden alla Casa Bianca sarebbe in bilico. Secondo il New York Times, il presidente starebbe valutando il passo indietro. Rivelazione però smentita dall'amministrazione USA che parla di notizia assolutamente falsa. In caso di rinuncia di Biden, la vicepresidente Kamala Harris è considerata la migliore alternativa per sostituirlo. Le reti Newsweek e Fox riportano che 25 deputati democratici starebbero per chiedere un passo indietro al presidente. Scricchiola il terreno sotto il presidente degli Stati Uniti e del New York Times a scrivere che Joe Biden starebbe valutando se continuare la corsa alla Casa Bianca. Negli ultimi mesi l'absus del presidente, si legge, sono diventati più frequenti, più pronunciati e preoccupanti in base a quanto raccontano persone che in questo periodo gli sono state vicine. L'absus che il presidente ha tentato di spiegare col jet lag dei fitti viaggi tra Europa e America, tanto da ammettere che si era quasi addormentato sul palco. La Casa Bianca ha smentito però l'articolo come assolutamente falso, lamentandosi per il poco tempo concesso dal New York Times per un commento. Corro fino alla fine e nessuno mi sta spingendo fuori, ha detto Biden, ma anche i suoi danno segnali di irrequietezza. Stasera un secondo deputato Dem dell'Arizona, dopo il texano Dodget, ha chiesto al presidente di ritirarsi. Anche parlare della sua salute non è più un tabù, come ha dichiarato l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Così, nonostante i fedelissimi facciano quadrato per proteggerlo, si fa sempre più strada il nome della vicepresidente Kamala Harris. La scelta più naturale sarebbe passarle il testimone, visto che nei sondaggi è più impopolare di Biden, ma appare solo uno o due punti da Trump. Vedremo cosa succederà in questo intenso weekend per la festa del 4 luglio. Saranno decisivi un'intervista alla ABC e altri comizi. Una notizia importante che arriva dal Medio Oriente. Qatar ed Egitto hanno trasmesso alla squadra negoziale israeliana la risposta di Hamas all'ultima proposta di un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo riferisce la stampa israeliana citando il Mossad. Israele sta studiando i termini e darà la sua risposta ai mediatori. Intanto domani il Regno Unito sarà il voto per le elezioni anticipate e convocate dal premier Sunak. Operazione fallita, visto che gli stessi conservatori prevedono una sconfitta a valanga. I laboristi temono solo l'affluenza. Tanto che il leader Starmer rivolge un appello al voto. Non restate a casa, ha detto. Nell'ultimo tentativo di riscossa i tori riesumano perfino l'ex primo ministro Boris Johnson, apparso a sorpresa ad un evento elettorale per Sunak. No all'assolutismo di Stato, no ad un'autorità senza limiti potenzialmente prevaricatrice. Sono le indicazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella riflessione sul rapporto tra libertà e democrazia svolta a Trieste. Nell'intervento del Capo dello Stato a Trieste, nell'ambito della settimana sociale dei Cattolici, c'è soprattutto il tema della democrazia e di quanto sia necessario preservarla. Non c'è democrazia senza tutela delle libertà fondamentali, spiega infatti Sergio Mattarella, che appena dopo cita il filosofo Roberto Bobbio e le sue condizioni minime della democrazia che sono esigenti. E così il Capo dello Stato affronta la questione cruciale dei rapporti politici e puntualizza i limiti alle decisioni della maggioranza non possono violare i diritti delle minoranze e impedire che possano diventare a loro volta maggioranza. Parole che riportano l'attenzione di tutti sull'attualità della riforma costituzionale che ha già iniziato il suo cammino parlamentare, che ha appunto al centro del suo impianto la governabilità. E il Presidente spiega Ci soccorre anche qui Bobbio quando ammonisce che non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti in nome del dovere di governare. Una democrazia della maggioranza sarebbe per definizione una insanabile contraddizione per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà. Il rischio da evitare per Mattarella dunque è quello di una dittatura della maggioranza che si traduca in assolutismo di Stato. Un concetto che il Capo dello Stato lega a Egidio Tosato, giurista cattolico, e alla sua critica a Rousseau in base al quale la volontà generale non poteva trovare limiti di alcun genere nelle leggi. Al contrario, la presunta volontà generale di una maggioranza che spesso si è dimostrata più ingiusta e oppressiva che non la volontà di un principe è il passaggio ancora di Tosato ripreso da Mattarella. La Commissione europea ha approvato le nozze fra Ita e Lufthansa. Il via libera prevede condizioni a tutela della concorrenza nello scalo di Milano-Linate, sulle rotte di cortoraggio, tra l'Italia e l'Europa centrale e nei lunghi collegamenti tra Fiumicino e il Nord America. Il colosso tedesco acquisirà dall'azionista MEF una quota del 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro e salirà entro il 2033 al 100% della NUCO sorta dalle cenere di Alitalia per un investimento totale di 829 milioni. Soddisfatti i protagonisti della lunga trattativa, preservata la concorrenza, dice la commissaria UEF Stager, mentre il ministro dell'Economia, Giorgetti, parla di un'operazione di grande successo per tutti. Siamo alla cronaca adesso. L'ex magistrato Gioacchino Natoli, che faceva parte del pool antimafia, è finito nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è favoreggiamento aggravato alla mafia. Faceva parte del pool antimafia di Falcone Borsellini. Il suo lavoro ha portato all'arresto di centinaia di persone legate alla criminalità organizzata. Ma ora a 77 anni l'ex magistrato in pensione Gioacchino Natoli è finito nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è favoreggiamento aggravato alla mafia riguardo alcune presunte condotte che l'ex PM avrebbe adottato per aiutare due imprenditori vicini a Cosa Nostra, Francesco Bonure e Antonio Buscemi, coinvolti nei primi anni del 1990 in un'inchiesta che si occupava dei rapporti tra gli appalti e la criminalità organizzata. Un'indagine che, secondo i familiari di Borsellino, sarebbe la causa scatenante dell'attentato di Via D'Amelio. Per l'accusa, Natoli, spinto dall'ex procuratore di Palermo Pietro Giammanco, morto sei anni fa e con l'aiuto dell'allora capitano della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, avrebbe tentato di favorire imprenditori mafiosi e politici impedendo di trascrivere conversazioni rilevanti tra di loro smagnetizzando bobine e distruggendo brogliacci. Già la commissione antimafia Natoli aveva rispinto le accuse smentendo che le bobine fossero state rese inutilizzabili o distrutte, ma i magistrati della procura di Caltanissetta gli hanno notificato un invito a comparire per sostenere un interrogatorio. Sono stato e sono un uomo delle istituzioni e ho piena fiducia nella giustizia. Darò senz'altro il mio contributo nell'accertamento della verità e le dichiarazioni di Natoli che verrà ascoltato dai PM venerdì mattina. Su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Roma sono state eseguite 25 misure cautelari ad aprilia, paese di 80 mila persone in provincia di Latina. I provvedimenti hanno coinvolto anche il sindaco Lanfranco Principi, eletto un anno fa con il sostegno di una coalizione di centrodestra e liste civiche. Il consolidato e strutturato gruppo di matrice mafiosa, così lo definisce il procuratore capo di Roma Franco Lovoi, si dedicava ad attività tipiche del 416 bis, traffico di droga, estorsioni, rapine e usura, reati contro la pubblica amministrazione, scambio elettorale politico mafioso. Per il GIP il sindaco di Aprilia era il simbolo della potenza del sodalizio che faceva accordi con imprenditori e cosche. Tra gli indagati l'ex sindaco Antonio Terra e l'ex assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso, entrambi consiglieri comunali dell'opposizione. È in fuga con la moglie e il figlio e si troverebbe, secondo il suocero, in una zona imprecisata della Francia. Giacomo Bozzoli, il 39enne, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, imprenditore bresciano, gettato nel forno della fonderia la sera dell'8 ottobre del 2015. Firmato il mandato d'arresto europeo, l'uomo potrebbe avere il passaporto scaduto. Su Giacomo Bozzoli ora pende anche un mandato d'arresto europeo. Da stamattina è ufficialmente latitante, ricercato in tutta Europa anche fuori dall'area Schengen. La sua villa, a Soiano del Lago, oggi pomeriggio è stata perquisita dai carabinieri. Sarebbe scappato a bordo della sua Maserati insieme alla moglie e al figlio di 9 anni. Una fuga per sottrarsi all'esecuzione della sentenza della Cassazione che due giorni fa lo ha condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio aggravato dello zio, l'imprenditore Mario Bozzoli, sparito nella fonderia che gestivano insieme l'8 ottobre del 2015. Il nipote si è sempre proclamato innocente. Pare fosse in viaggio già il 23 giugno scorso, partito dalla sua villa a Soiano del Lago, avvistato a Manerba vicino a Brescia e poi a Desenzano del Garda. Si troverebbe in una località imprecisata della Francia. Sarebbe andato per una vacanza, raccontato alla famiglia della moglie e agli inquirenti, preoccupata anche per il figlio piccolo di Bozzoli. Il provvedimento di retitanza è stato firmato dal giudice Roberto Spanò, che fu presidente della Corte d'Assise, nel processo di primo grado che lo condannò all'ergastolo. La condanna è arrivata alla fine di un processo altamente indiziario. Per questo non gli era stato contestato il pericolo di fuga, né gli era stato sequestrato il passaporto, ma sembra fosse scaduto e lui non lo avesse rinnovato, quindi inutilizzabile per lasciare l'Europa. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha di fatto quasi dimezzato le pene per Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Yort, i due studenti americani accusati dell'omicidio del carabiniere Mario Cercello Rega, avvenuto a Roma nel luglio del 2019. I due studenti sono stati condannati rispettivamente a 15 e 11 anni di carcere. Il nuovo processo è stato celebrato dopo che la Cassazione aveva annullato, per Elder la condanna a 24 anni e per Yort a 22 anni. Oggi è stata accolta la tesi della difesa, in base alla quale i due ragazzi non sapevano che Cercello fosse un carabiniere. In primo grado erano stati entrambi condannati all'ergastolo. E siamo allo sport, grande spettacolo nel derby italiano a Wimbledon. Yannick Sinner la spunta in quattro... È tutto, grazie per essere stati con noi e buonanotte. Grazie.